Valle Crosia ha festeggiato Don Bosco con una santa messa nella chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice. Per riunire la comunità e sinceramente quasi tutta la comunità di Valle Crosia è cresciuta in questo oratorio e questo è quello di Maria Ausiliatrice. Ci ha insegnato l'accoglienza Don Bosco e soprattutto rivolto ai giovani. Il suo era un sostenere, un sorreggere le persone e soprattutto i ragazzi e non spingerli, aiutarli nella crescita e nell'educazione e cercare insieme a loro di trovare sempre la strada giusta senza mai schiacciare nessuno. Questa è la filosofia e l'accoglienza è una parte molto importante all'interno della comunità salesiana. Ci hanno dato tanto, i salesiani a Valle Crosia continuano a darlo ogni giorno perché accolgono un sacco di ragazzi e soprattutto cercano di orientarli a quella che è la filosofia cristiana che è molto importante e ricordarsi sempre che le persone sono importanti solo se sono unite e creano comunità. Quindi la comunità dei salesiani è veramente all'interno del nostro tessuto cittadino e siamo veramente riconoscenti. Questa di oggi è anche l'occasione per inaugurare una chiesa rinfrescata e pitturata a nuovo e ringraziamo gli ex salieri che si sono adoperati per far sì che questa chiesa risplenda adesso di una luce nuova.